C'era una signora che cercava una giardina ungherese, una gallina ungherese e è andata in un po' l'everno, ci sono i polli, i giardini c'era un commesso e dicevo voglio una giardina ungherese questo piglia la giardina e c'è la donna dice un momento capro, ci cercava un'altra donna no no dice questo non è ungherese questo è la vartellina questo ne piglia un'ausa e ci ha metto chiede che fare? ci si coglia su una culo no guarda dice chi sta da patania? insomma ne piglia una paratine che ha trovato quella giusta chi sta davanti lì? dice ma lei è un'intenditrice è il mio mestiere dice ma lei mi scusi, lei è un commesso nuovo perché prima c'era un altro qua dice si sogna un uomo scusi lei è un niente dice questo segale causa dice un settazzo lei è un sogno dice ho